Due fratelli, un giro di complici, spaccio di droga, possesso di armi, un clima di terrore con minacce e distorsione, clienti che non pagavano, uno di loro persino hanno bruciato la casa. Non sono gli ingredienti dell'ennesima fiction sulla malavita giovanile, ma gli elementi dell'operazione Fast and Weapons, coordinata dalla procura della Repubblica di Monza e condotta dalla questura del capoluogo Brianzolo. Nei guai due fratelli di Lissone, un 35enne già arrestato nel giugno 2021 e un 24enne finito in manette il 22 maggio. L'inchiesta è scattata a dicembre del 2020 quando un trentenne, sempre residente a Lissone, è stato sorpreso dalle forze dell'ordine con una pistola beretta rubata e una mitragliatrice serba. Le armi non erano sue, ma erano state sottratte al maggiore dei due fratelli che le deteneva in un box a Lissone. Le indagini hanno quindi permesso di smascherare un giro di spaccio gestito dallo stesso in modo spregiudicato attraverso anche un complice, vittima di minacce e violenze. La polizia ha poi documentato due episodi di resistenza pubblico ufficiale durante due fughe rocambolesche degli spacciatori inseguiti dai carabinieri di Desio. Per recuperare soldi dai clienti che non pagavano, inoltre, il 30 settembre ricorreva a pratiche di estorsione arrivando in un caso a incendiare persino l'abitazione di uno di loro. Stessi metodi impiegati dal fratello minore, anche egli a capo di un giro di spaccio di hashish e cocaina. Nel marzo 2021 era finito in manette un suo complice trovato dalle forze dell'ordine con droga e diverse armi. Nel corso dell'intera attività di indagine i due fratelli sono stati sequestrate sette armi da fuoco, fra le quali pistole rubate o con matricola brasa e un fucile a pompa, oltre a tre chili di droga fra hashish, marijuana e cocaina. 9.000 euro in contanti, frutto dell'attività di spaccio, orologi, capi d'abbigliamento e beni preziosi, frutto invece delle estorsioni ai clienti.